Il Garante Regionale dei Detenuti ha fatto il punto in una conferenza stampa organizzata a Palazzo Lascaris con il Garante del Comune di Torino, Medici per i Diritti Umani e l'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione sulla garanzia dei diritti delle persone detenute nel CIE di Corso Brunelleschi a Torino. Attualmente la struttura ospita 43 persone in prevalenza provenienti dal Nord Africa, di cui 37 con precedenti penali. Una conferenza stampa per comunicare anche all'esterno un rapporto consolidato dell'Ufficio Regionale del Garante con l'Associazione Medu, Medici dei Diritti Umani e l'Associazione degli Avvocati, dei giuristi per il diritto internazionale che sono elementi fondamentali di un'attenzione, di un ruolo di garanzia rispetto alle persone ospitate nel CIE, Centro di Identificazione ed Espulsione. I diritti fondamentali dell'uomo che devono essere garantiti anche in una fase così delicata e difficile come quella dell'identificazione e dell'espulsione in una fase che può essere critica, che è critica anche dal punto di vista sanitario oltre che del rispetto dei diritti.